L'aggiornamento è quello di 32 persone contagiate, ovviamente è un incremento di una persona in quel di Venezia Capoluogo, la conferma dei contagiati a Mira e Dolo e ovviamente un incremento anche su Vò, la comunità di Vò. Sono comunque confermati i cluster originali dove abbiamo avuto i primi contagi. Dall'altro in Veneto si sta applicando fin dalle prime ore di questa mattina in toto l'ordinanza che ho firmato con la chiusura delle scuole, la chiusura di tutte le manifestazioni pubbliche, compreso il Carnevale di Venezia e tutti gli altri Carnevali del Veneto e ovviamente poi chiese, manifestazioni e tutto quello che ne consegue.